Una bella analisi su questa partita. Abbiamo fatto un discreto gioco. Ci è mancato un po' di cattiveria in fase di finalizzazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo subito un gol sulle uniche prime due occasioni del Parviglia. Uno su un cross sulla nostra destra e un altro sul secondo tempo in cui siamo stati un pochino leggeri in area di rigore. Certamente dobbiamo essere un pochino più bravi lì davanti. Essere più incisivi, più bravi e più cattivi sotto la porta. Quello sicuramente. Poi dire che manca qualcuno, no. Certamente non sta a me dirlo. Io sono contento, lo ripeto, per quello che mi stanno dando i ragazzi. Chiaramente dobbiamo crescere. Siamo una squadra giovane. Gli ospiti nostri, insomma, il mister della Parviglia è Giuseppe Barbieri. Allora, Giuseppe, tutto complemento di questa vittoria. Anzi, forse diciamo che potevate farne qualche altro gol, però credo che sia una vittoria ampiamente meritata. Ampiamente meritata. Come dici bene tu, i ragazzi sono espressi bene. Sono molto contento di quello che hanno fatto durante la settimana e sono riusciti a riportarlo in partita. Quindi per me è stata una settimana molto positiva. Ci accingiamo ad avere un recupero mercoledì, quindi siamo già concentrati alla prossima. Non siamo una squadra che è costruita per vincere il campionato. Noi ci giochiamo le partite, una alla volta, senza nessun assillo. Come hai visto tu, in maniera molto goliardica e tranquilla. Dopo il primo gol abbiamo avuto un po' timore di riprendere il pallino del gioco. Poi nel secondo tempo siamo entrati bene in campo e abbiamo concluso la gara in crescendo. Quindi sono molto contento soprattutto della prestazione atletica della squadra.